Ciao a tutti, sono Alberto dell'hotel Comodoro di Riccione, figlio dei titolari. Noi ci troviamo proprio in prima lina sul mare, 54 camere e un albergo un po' familiare. Ho scelto Hotel CC in quanto mi è stato consigliato direttamente da Marco come strumento per poter aiutare il mio lavoro. Prima il mio lavoro era molto diverso, nel senso che era più complicato, nel senso che tutto veniva fatto manualmente tramite il programma di posta elettronica e quindi tutti i giorni arrivavano una serie di calendari, di promemoria che mi suggerivano di compiere delle azioni. Dopodiché, utilizzando questo programma, sicuramente i miei tempi di lavoro sono diminuiti e sono diventati più efficaci. I tre punti fondamentali di Hotel CC si possono provare a riassumere, magari sono anche di più. Sicuramente il tasso di conversione, mentre prima abbiamo visto che per ottenere un risultato positivo bisognava almeno mandare un centinaio di proposte, adesso dal mio punto di vista, soprattutto sul mio campo specifico, si aggira intorno al 15-20%, quindi direi che ho un ottimo risultato. Poi, soprattutto a livello di grafica, molte volte quando si mandavano dei preventivi, usciva l'immagine, non ritornava tutto come tu volevi, invece sai che a destinazione arriva sempre quello che tu vuoi. E poi possiamo fare sempre delle offerte specifiche in maniera molto rapida. Sì, sicuramente lo consiglierei, anzi l'ho già consigliato perché altri colleghi li utilizzano, mi hanno chiesto un parere e ho sempre dato un parere positivo. Direi che è uno strumento professionale e questo, già avere un qualcosa di professionale, ti aiuta a lavorare meglio. E come dicevo prima, senza stare a ripetermi, soprattutto sui tempi, sui tempi di esecuzione delle azioni. Mentre prima, per fare una determinata azione, ci inchiedeva molto tempo anche molte persone, qui viene fatto in maniera automatica. Dopodiché, se uno vuole intervenire anche personalmente, è un altro tipo di discorso, perché magari vuole essere più sicuro, eccetera. Però, sai che comunque è un'azione che viene fatta. E quindi questo qui è già un punto a, diciamo, a favore. Grazie. 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 Grazie.